Sindaco, la decima edizione della Notte di Tottea avverrà quest'anno vari avvenimenti nell'ambito di questo appuntamento, Pompieropoli, poi il concerto di Roberto Vecchioni, tanti eventi per un'edizione sempre più importante. Sì, certo è un segno di passo, decima annualità, ancora una volta l'associazione Prologo di Tottea che io ringrazio per quello che è la valenza del territorio, per quello che riesce a concretizzare, ha fissato un punto di arrivo, un importante cantante, un evento canoro di rilevata importanza nell'ambito provinciale che gratifica il nostro territorio. Un altro valore aggiunto è quello che quest'anno siamo riusciti a portare all'interno di questa manifestazione, Pompieropoli, che è un po' l'addestramento dei più piccoli all'attività dei Vigi del Fuoco. Tottea ha inserito l'immagine dei Vigi del Fuoco con questa Pompieropoli che è veramente molto interessante, un percorso ludico per i bambini, ma più che percorso ludico direi che è un'immagine dei Vigi del Fuoco che ovviamente viene mostrata e quale categoria migliore per veicolare la sicurezza e la prevenzione nell'ambito della nostra vita quotidiana, quale è quella dei bambini. Grazie. Grazie.